Musica Benvenuti a Verona, la città di Romeo e Giulietta, dell'opera, dell'amarone e naturalmente del buon cibo. E questo noi in Veronesi lo sappiamo bene, lo sappiamo fin dall'inizio, fin da quando controlliamo le materie prime, che il nostro obiettivo non è soltanto produrre mangime, ma è portare al consumatore carne sana e saporita. E lo sapeva soprattutto Apollinare Veronesi, quando 60 anni fa aprì il suo primo mangimificio, il primo impianto di quello che sarebbe diventato uno dei più grandi gruppi agroalimentari europei. Ed è proprio dal mangimificio di Verona che, dopo pranzo, inizierà la vostra visita. Musica Buongiorno e benvenuti presso il centro direzionale del Gruppo Veronesi, che è il primo produttore italiano di mangime. Abbiamo oggi l'orgoglio di presentarvi il nostro primo stabilimento, costruito ancora negli anni 50, che produce primariamente mangime per polli, tacchini, suini, ruminanti e anche pesci. Andiamo a vedere un po' della nostra storia. Musica Vi mostriamo ora l'abitazione del nostro fondatore, il Cavaliere Apollinare Veronesi, che con piacere ascoltava la musica che proveniva dai suoi impianti. Il controllo di qualità delle materie prime è una delle attività fondamentali dei nostri processi, per avere ottimi mangimi. La Veronesi ha la ricerca continua del miglioramento qualitativo e ciò ci ha reso possibile anche attraverso la collaborazione continua con un'azienda leader come la Bühler. Andiamo a vedere la sala controllo. Musica Questa è la nostra control room e questo è il nostro ingegner Luca Buttura, il nostro responsabile dell'ingegneria di processo, che vi spiegherà ogni cosa. Piacere. Come si può notare dal numero di monitor presenti in questa sala comandi, crediamo fermamente nell'automazione completa del nostro processo per avere garanzia di uniformità e standardizzazione degli step produttivi che garantiscano quindi qualità di processo che si traduca in qualità di prodotto. Adesso andiamo a vedere le macchine della Bühler più da vicino. Quello che vediamo qua è l'ISIS. Partiamo dall'alto con l'alimentatore, dopodiché il primo cilindro che vediamo qua è il condizionatore. Questo permette di raggiungere la temperatura desiderata. Poco sotto abbiamo il retentioner, che garantisce di mantenere tale temperatura per un tempo congruo. Quella che vedete qua è la cubettatrice Cubex T9 di Bühler. Si invasa su un concetto abbastanza innovativo e ho avuto la fortuna, peraltro, di partecipare alla progettazione base di questa pressa. La trasmissione diretta, che è l'innovazione di questa macchina, e l'elevata potenza installata permettono a parità di taglia una portata maggiore di prodotto e dei costi di esercizio inferiori. Apriamo la porta e vediamo dentro com'è. Quello che vediamo qua è il DFZL 1500 Bühler. È un rompitore a doppio stadio in serie con regolazione automatica dei rulli. Come possiamo vedere è garantita una granulometria uniforme e un bassissimo contenuto di polveri. Avete visto quanta attenzione mettiamo in ogni fase della nostra produzione. Solo così potevamo conquistare la fiducia dei nostri consumatori. Grazie ai nostri collaboratori e grazie anche a Bühler. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!